In cammino verso l'uomo è il titolo del convegno organizzato dal Comitato Diritti Umani con il movimento Noi Siamo Con Voi. Durante l'incontro si sono confrontate comunità religiose e istanze della società civile con un comune impegno per un tavolo interreligioso sulla famiglia e per un modello educativo rivolto ai giovani. Il presidente del Consiglio Mauro Laus ha annunciato che proporrà al Consiglio regionale di assegnare il sigillo della regione al Sermig, impegnato per la pace e l'accoglienza e di inserire il termine fraternità nello statuto del Piemonte.